Sfida inedita, quella San Termete Stadium tra i Verdi e San Termete la neopromossa Asar. San Termete che vuole dare continuità ai fatti di vittorie dopo il successo esterno col Belare Giamarina, mentre l'Asar è alla ricerca del primo Rai stagione dopo il segno X con la Sampierana. Allo Stadium è subito partita vera con questa conclusione che termina lontano dalla porta difesa da Mauri, più preciso Fucchi quando chiama la rispinta, l'estremo ospite. Al primo vero affondo l'Asar passa, il tiro di Sogas viene rispinto sul piede di Pierri che scaraventa di prima intenzione il pallone dell'1-0 alle spalle di Romani. Il San Termete reagisce nell'immediato, alta svento dalla distanza, cura di Vukai che si infila alla sinistra di Mauri. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Scatenato Vukai che con un'alta sventola chiama la rispinta Mauri, mentre sul versante opposto arriva l'acuto dell'Asar firmato da Ciavatta che non è surta per rispetto del passato. Dopo uno sconto di gioco che spezza il gioco per qualche minuto, Vukai prova a riprendere il passo mettendo in difficoltà tutto il reparto dell'Asar con relativo salvataggio sulla linea di porta. Squadra a riposo sull'1-2. Nella ripresa l'Asar va vicino al bersaglio scheggiando la traversa, mentre il solito Vukai dall'altra parte si dimostra imprendibile. Però è l'Asar a protestare. L'uscita di Romani su Ciavatta e Dammo Viola. Il reprei a cura del nostro Cameram ci aiuta a capire meglio l'episodio. L'arbitro non interviene tra le proteste e ospiti. Il sant'ermete prova a pareggiarla da calcio piazzato. Mauri è sulla traiettoria, ma il pallone accarezza prima il pallo per poi spegnersi al lato. In contropiede Gattesi si divora il possibile pareggio. Nel finale succede davvero di tutto. Siamo al novantissimo. Marcaccio trova la deviazione vincente per il 2-2 in mezzo a una selva di gambe. Tra la gioia dell'uomini di Pazzini che raggiungono un pareggio davvero isperato. Infine il cramoroso 3-2 arriva al minuto 92. Vukai mette al centro un delizioso babà che chiede di essere dolcemente gettato in fondo alla rete. Ed ecco che benvenuti firma il definitivo 3-2. Tra la gioia incredibile del sant'ermite e la disperazione dell'Asa.